Buongiorno, buon sabato, ben svegliati, ben ritornati. Siamo arrivati soprattutto con la nostra rassegna stampa, quella di Mattino Sein, questo sabato 25 agosto. Siamo pronti per vedere i quotidiani della nostra regione, ma non solo, e vedere le principali notizie che propongono i fogli che trovate già in edicola. Come di consueto in questa prima parte spazio alle prime pagine, allora partiamo da casa nostra, partiamo dai nostri quotidiani, iniziando dalla prima pagina del centro edizione di Pescara, che sceglie di aprire con la questione scuole. La procura riapre le mense. Pescara ha tolti i sigilli al centro cottura, già partita la trattativa con la nuova società. In alto, questioni che riguardano la politica, perché Bellachioma nella bufera chiede scusa. Dopo il post su Facebook il leghista ammette una leggerezza, ma D'Alfonso lo denuncia. Non voleva minacciare persone e istituzioni. Sono le 19.45 di ieri, quando arrivano le scuse dell'onorevole Giuseppe Bellachioma, forse imposte da Roma. Ed è sempre Facebook il canale al quale il coordinatore regionale della Lega affida le sue riflessioni. Dopo una giornata in cui c'erano state tante polemiche per il post riferito a Salvini, in cui Bellachioma diceva che se toccate il capitano vi veniamo a prendere sotto casa. A centro pagina scendiamo. Ovviamente questa è l'edizione di Pescara. Allora spazio oggi alla Serie B, perché si parte. Pilon sfida Mandorlini a Cremona senza paura alle 18, il debutto del Pescara. Serie B che è iniziata ieri sera con l'anticipo tra Brescia e Perugia. Terminato 1-1, ma oggi è la volta del Pescara. Allora ne approfitto per ricordarvi, ma lo faremo anche durante la pagina sportiva di questa rassegna stampa, che questa sera ovviamente con il Pescara torna anche diretta a stadio. Collegamenti dall'Ozzini di Cremona con il nostro Paolo Renzetti per il pre-gara, per farci raccontare la partita del Delfino. E poi ovviamente per le interviste è tutto rigorosamente in diretta dopo il novantesimo. sperando che le cose vadano bene per i bianco-azzurri. Continuiamo nella lettura, nelle cronache siamo a Città Sant'Angelo. L'Iper va a Conad, un piano salva i posti di lavoro. Una riduzione dell'orario di lavoro è l'unica condizione posta dall'azienda di grande distribuzione per evitare i licenziamenti dei 230 dipendenti. A Montesilvano, materna chiusa, decine di bimbi da trasferire. Pescara, piazza Primo Maggio, oltre 200 firme per far rinascere la porta del mare. Dall'altra parte, sempre all'interno del quotidiano, trovate questa testimonianza. Un imprenditore svela, ho visto la tomba di Marchionne e come leggete si trova in Canada. E poi, A24, Photoshop del viadotto di Assergi, il più mal ridotto. Le immagini sono eloquenti, non lasciano spazio, a dubbio interpretazioni. Foto che trovate a pagina 12, poi ovviamente nel corso della lettura, nella seconda parte, andremo anche a vederla, queste foto. In basso, questioni che riguardano il turismo, perché la crisi non frena le vacanze. 1.500 euro per una settimana di relax, i pescaresi viaggiano e scelgono Grecia, Croazia e Spagna. E infatti l'attacco è, se c'è un mercato che non conosce crisi, è quello del turismo. Nessuno rinuncia alla vacanza d'agosto, in molti si indebitano facendo ricorso ai finanziamenti. L'estate in Abruzzo, nei box Radio Dervish per Estatica, Viaggiamo con le note e poi Ermalmeta senza armi alla Civitella di Chieti. Questa è la prima pagina dell'edizione del centro di Pescara. Andiamo avanti, rimaniamo sul quotidiano Il Centro, ma vediamo che cosa cambia nell'edizione di Chieti, che apre con questo titolo. Interrogate gli amici del Branco, violenze di gruppo a vasto, i carabinieri chiamano i compagni di classe degli arrestati. La fotonotizia riguarda Chieti e vedete la nuova piazza San Giustino, mosaico romano in vista. Questa è la struttura ritrovata sotto piazza San Giustino, ovviamente sotto l'occhio vigile del primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio. Vediamo che cosa cambia nella prima pagina, siamo a Chieti, nelle cronache, i genitori, scuole a rischio, subito i controlli. A 15 giorni dall'aria apertura delle scuole scatta l'allarme dell'Associazione Assai, Associazione Scuole Sicure Abruzzo Italia, del comitato Scuole Sicure Chieti, sullo stato dei plessi scolastici. La richiesta è ovviamente quella di una sicurezza, se possibile, maggiore di quella che già c'è. San Vito Chietino, piatti e bicchieri di plastica, scatta il divieto e a Lanciano case distrutte nel quartiere abbandonato. Vediamo in basso paura a Castiglione Messermarino, i cinghiali nel parco giochi, gli animali arrivano nel centro cittadino, allora scatta la protesta. Questo è quello che cambia rispetto all'edizione di Pescara. Andiamo avanti con l'edizione di Teramo, sempre del centro, cambia apertura, ovviamente inflitti tre anni per la rissa al porto. Botte con i teramani, i fratelli ultra di Giulianova, patteggiano la pena e tornano liberi. A centro pagina siamo a Giulianova ancora, maxi multe a chi passeggia in bichini sulla strada, ordinanza del comune di Giulianova. Nelle cronache, il giallo di Giulia di Sabatino, i PM richiedono l'archiviazione, ricorderete, la ragazza che precipitò da un cavalcavia della 14 e poi venne dilaniata dalle auto. Per il PM è stato suicidio, ma i familiari annunciano un'altra opposizione. A Montorio apre il primo cantiere del sisma 2009. A Teramo parla Ponziani, cultura faccio la rivoluzione. In basso, traffico impazzito sulla SS16 per il rogo in galleria Grotta Amare, uscita obbligatoria dalla 14. Martinsicuro resta bloccata, giornata da incubo per il traffico a Martinsicuro a causa di un incidente avvenuto sulla A14 in una galleria tra Grotta Amare e Pedaso. Chiudiamo le edizioni del centro con la prima pagina dell'edizione Aquilana. I soldi non ci ridanno, nostro figlio. Dopo la sentenza parlano i genitori di uno dei ragazzi morti nella casa dello studente. La fotonotizia, l'Aquila pienone per il musical alla perdonanza. Piazza Duomo, teatro all'aperto per Ted Gesù. Superstar si è aperta alla perdonanza celestiniana. Nelle cronache, effetto maltempo 1, Ateneo crolla il controsoffitto. Ha coppito 2, due giorni dopo l'ennesimo nubifraggio che ha investito la città. Anche l'università ha dovuto fare i conti con il maltempo. Il conto è salato, leggiamo, soprattutto per i plessi di Roio e Coppito. A Ingegneria è andata in tilt la cabina elettrica, mentre a Coppito 2 è crollato un controsoffitto. Non basta perché, sempre per l'effetto maltempo, tanti tombini ostruiti fanno allagare sul Mona. Ad Avezzano furbi del fisco recuperati 1.200.000 euro. In basso, per lo sport, i club no all'Aquila in eccellenza. L'appello a Ortolano contro la rinata società sportiva Braccio di Ferro sul futuro dei Rosso-Blu. Alta tensione sulla neonata SSD Città di L'Aquila, che spera di giocare in eccellenza o promozione. È bastata l'ipotesi di vedere i Rosso-Blu ammessi in uno dei due tornei per provocare la reazione degli altri club. Alcune società di eccellenza hanno chiesto ufficialmente al presidente Ortolano di non modificare il format a 18 squadre. Chiudiamo con il centro, vediamo la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, che apre con autostrade. Si va allo scontro. La holding di Toto su A24 e A25 abbiamo speso più di quanto concordato con il MIT, ma gli ambientalisti all'attacco, esposti a nove procure sulla sicurezza delle opere. In alto, sotto la testata, vediamo nozze d'intorno, il business del wedding per rilanciare il turismo. E poi Giulianova, maxi multe per chi cammina in bichini lontano dal mare. Anche qui l'Aquila spera nell'eccellenza, lunedì la decisione del commissario Fabricini di spalla. La polemica, Bella Chioma si scusa ed Alfonso lo denuncia per la politica. A Chieti, il PM testa, la procura non è sicura. Qui dove siamo, leggiamo, non va bene perché questo edificio è stato pensato, progettato e costruito per ragioni diverse dalla collocazione di un ufficio giudiziario. È un vecchio palazzo, ma non è adatto per gli uffici, tantomeno per ospitare la procura della Repubblica. Sono le parole del procuratore capo di Chieti, Francesco Testa, a lanciare un allarme, ma anche un appello affinché la procura abbia una sede idonea. A centropagina, Valentina uccisa dalle schegge della vetrata rotta, l'Aquila autopsia sulla ragazza dissanguata, ferite provocate dal tentativo di entrare in casa. Pillon, questa è la foto, notizia. Pescara con il furore negli occhi, oggi il debutto a Cremona. La sorpresa è l'inserimento in attacco di Marras con Antonucci e con Monachello. Poi vedremo, insomma, più o meno lo schieramento che si prevede questo pomeriggio allo Zini. In basso, Alba Adriatica, il bullo tradito da Facebook colpì con un violento pugno in pieno volto un coetaneo, minorenne identificato dai carabinieri, 17enne di Martinsicuro. Il tutto fu scatenato da qualche apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza. Questa è la prima pagina del Messaggero. Andiamo in provincia di Teramo, nello specifico, con la prima pagina del quotidiano. La città rissa, patteggiano i fratelli giuliesi, arrestati dopo la Peristrit per una lite con i teramani. Indagini ancora in corso in alto. Cazzotti al carnevale, rintracciato l'aggressore, è un minorenne, come abbiamo letto, di Martinsicuro. La foto, anche qui ritroviamo costume bandito, decoro, multe di 25 euro a chi lo usa anche in città, ovviamente, del costume. Di spalla, minacce magistrati, retromarcia con tanto di scuse per l'onorevole della Lega. Per il turismo, tassa turistica, disastro programmatico. E poi, storia d'Italia sul cammino dei cippi, oggi l'inaugurazione del progetto a Valle Castellana. In basso, per la cultura, Teramo diventa Cellolandia. Chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani locali. Adesso andiamo a vedere le principali testate nazionali che cosa dicono dell'Italia e non solo, anche delle notizie internazionali. Questo è il Corriere della Sera, che apre con l'alta tensione con l'Europa. Moavero si smarca, governo diviso, muro della OE, Conte reagiremo. Migranti, il procuratore interroga i funzionari del Viminale. Salvini, c'è un torturatore, senta me, dice il ministro dell'Interno. La strategia, leggiamo, del Premier, la carta del veto sui conti. E poi la nuova linea del Colle, su Trapani intervenne. E adesso si chiede Marzio Breda, che ha curato questo approfondimento. Il piano caduta guidata, così sarà demolito il ponte di Genova, il ponte Morandi. E poi la foto, il ritorno da favola, di Tissi alla scala. E a proposito del Corriere della Sera, leggiamo anche l'apertura, pagina 2. L'ira di Conte per l'attacco dell'Europa, ma sui migranti. Il governo si divide, l'Unione Noa e i ricatti di Roma. A Palazzo Chigi ci saranno conseguenze. La farnesina si smarca. E qui vediamo la cartina che riassume un po' quello che sta succedendo a largo delle coste italiane. E in basso, leggiamo, pagare i contributi un dovere. La bacchettata di Moavero, che spiazza gli alleati giarloverdi. Ministro al meeting, i migranti sono persone. Ricordiamo la questione dei contributi, contributi che l'Italia deve all'Europa e che il governo italiano ha fatto sapere di non voler pagare, fino a che l'Europa non si impegnerà a trovare un piano per risolvere la vicenda della nave Diciotti. Leggiamo l'altra pagina. Veto al bilancio UE, ultima carta del Premier. La ritorsione economica perde peso. Sarebbe, peraltro, meno dei 20 miliardi minacciati. L'irritazione di Conte per i toni alti dei due vice che hanno complicato le trattative. Andiamo avanti. Vediamo la prima pagina di Repubblica. Diciotti. Tutti gli abusi di Salvini nella UE. L'Italia finisce nell'angolo. Nessun ordine scritto per vietare lo sbarco. Conte e il ministro cercano una via d'uscita. Il commento di Andrea Bonanni, un paese trascinato nel ridicolo. Nell'intervista, cambiamo argomento, il Premier Ceco Babis servono più poteri per fermare i migranti. L'inchiesta, la rabbia dell'Emilia nell'anno zero del PD, basta Liti nel partito. In basso, strage del ponte, ex 007, amici della Criche e consulenti dei costruttori. Ecco gli ispettori di Toninelli. E anche su Repubblica entriamo per vedere la questione migranti come ostaggi. Ecco le norme violate per ordine di Salvini dal porto sicuro negato all'assenza di disposizioni scritte. La catena di illegittimità su cui indaga la procura di Agrigento. Oggi interrogati due funzionari del Viminale. Dall'altra parte, Maret e gli altri sulla nave prigione, dove la pazienza sta diventando rabbia. Una parte dei 150 a bordo digiunano per protesta. Il comandante teme si possa alzare la tensione. Andiamo avanti con le altre prime pagine. Il fatto quotidiano, la UE, se ne frega dei migranti. I governi lavorano per Salvini. Vertice flop, nessuno vuole i 150 della Diciotti. Il ministro, ho detto io no allo sbarco. In alto, calcio e tv, dietro da Zon, il business scommesse. Altro che sport, il gruppo Perform e la fare watch and bet. E poi la polemica, via la scorta a ultimo. Il Viminale spieghi, irrita dalla chiesa, posta il documento, dicendo è assurdo. E poi, per quanto riguarda il crollo del Ponte Morandi, il tecnico che Toninelli ha cacciato, poteva chiudere l'autostrada. Il messaggero, l'edizione, la prima pagina nazionale, migranti, no della UE all'Italia. Il governo, ritorsione sui fondi, Diciotti, nessun aiuto dall'Europa, Conte Media sullo sbarco. Detrarremo le spese, i PM di Agrigento al Viminale per l'indagine sul sequestro di persona. Salvini li sfida. A centropagina, Altare della Patria, individuati i vandali grazie al Bancomat. Costumi per il bagno nella fontana, comprati in un negozio in centro e adesso è caccia ai tre stranieri. La rivoluzione in Ryanair, adesso si pagherà il bagaglio a mano. E poi, Liverpool-Roma, due anni e mezzo al primo ultraromano arrestato e l'altro tifoso per il pestaggio, lo ricordate, a Sean Cox, tifoso del Liverpool. E adesso l'altro tifoso che lo ha pestato rischi a sette anni. Andiamo avanti, il mattino siamo a Napoli, migranti, schiaffo della UE, fumata nera al vertice sulla Diciotti, Lira del Governo, pronti a tagliare i contributi, sconcerto del Colle. Conte tratta per lo sbarco, PM siciliani al Viminale e Salvini li sfida. A centropagina ovviamente non può che esserci la partitissima di questa sera, Ancelotti fa i conti con il passato, sindaco tra gli ultrar De Laurenti s'attacca. Questa sera c'è Napoli-Milan al San Paolo, ma è veramente fortissimo lo scontro tra Aurelio De Laurenti e il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris che ha detto che non vedrà più la partita in tribuna vicino a De Laurentiis, ma andrà in curva libero. L'Italia fa acqua, i romenici rubano i pesci, i bandi dell'Esta arrivano lungo i nostri fiumi, poco compreso avvelennano e danno la scossa a Carpe, Lucci e Siluri per poi rivenderli ai ristoranti. Le forze dell'ordine faticano a prendere i bracconieri, personale e leggi, sono ridicoli, almeno da questo punto di vista per libero. La foto, questi fanno soldi pure con il calci, conti in tasca da Andrea Agnelli e John Elkan, la Juve supera il miliardo di valore, da giugno in borsa ha guadagnato il 50% e non solo, grazie a Ronaldo. Il manifesto escalation, vediamo anche la spiegazione, ne trarremo le conseguenze, taglieremo i finanziamenti, raffica di avvertimenti dal trio Conte Salvini di Maio, dopo il no di Bruxelles alle richieste italiane di condividere i 148 migranti, il viminale ordina, dalla nave non scende nessuno, isolato il ministro Moavero. Sisma, il silenzio e la stanchezza, due anni dal terremoto in centro Italia. Il sole 24 ore, la Fed tira dritto, ripresa solida, avanti su rialzo dei tassi. Ovviamente il sole 24 ore, grande spazio alle tematiche economico-finanziarie. Boccia, il leader di Confindustria, serve un tavolo con il governo perché si va verso la manovra. Più interlocuzione, siamo partiti in salita. E poi questa sfida vintage per le automobili tra Kalashnikov e Tesla. La Russia Kalashnikov, nota per il Mitra K47, diversifica nell'auto elettrica e lancia la sfida a Tesla, la Model 3, che è questa qui, con una vettura dall'indubbio fascino vintage, che invece è questa qui, che riporta i tempi della cortina di ferro. Vediamo adesso i quotidiani sportivi, partendo da Gazzetta dello Sport, che apre con questa copertina molto ricca, con il titolo Sold Out, che weekend, un pieno di pubblico e passione. Alle ore 18 c'è Juve Lazio, CR7 a caccia del primo gol in Italia, con la Juventus. E poi alle 20.30, altra super partita, Napoli-Milan, Rino al derby con Ancelotti. Sarà davvero un sabato super. E poi domani alle 20.30 c'è Inter-Torino, Spalletti punta su Brozovic, Cairo ce la giochiamo. Ma questo pomeriggio ci sarà anche la Formula 1, con le rosse che vanno a caccia, a Spa della pole position. Le rosse vanno, Kimi è dovizioso davanti nelle libere, in Belgio è già una Ferrari promettente. Bottas partirà dall'ultima posizione, perché ha cambiato il motore. Gran Bretagna, vola la Ducati, Valentino Rossi è ok. E poi per la B, che tratteremo tra poco, entrando proprio sulle pagine interne di Gazzetta, Brescia si illude, Perugia 1-1 al 93, oggi c'è il Palermo. La Vuelta oggi parte, Nibali da squalo, se supero l'avvio dico la mia. E a proposito di Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere la pagina che riguarda la Serie B. La Serie B è partita, come diciamo, il Brescia avanti, poi resta in 10, il Perugia si salva. Il protagonista è Bisoli, segna e causa il rigore trasformato da Vido nel recupero. Primo punto per Alessandro Nesta, finale trilling nell'altra pagina. Ci sono ovviamente le pagelle della partita, ovviamente il voto più basso nel Brescia è per Gastaldello, che prende 4, visto che ha lasciato i suoi in 10. Il migliore è Sandro Tonali, che è l'uomo mercato. Il migliore in casa Perugia, invece, è l'ex Giulianova e Pescara Federico Melchiorri, che prende 6,5. In basso, oggi in campo, c'è anche il Pescara, Cremonese si cambia, in campo con 7 novità. Pescara, ecco Ciofani e queste sono le formazioni che dovrebbero scendere in campo questo pomeriggio. Le vediamo, Pescara con Fiorillo tra i pali, Balzano per Rotta, Graviglione e Ciofani in difesa, Macin, Brugman e Memusciai, Antonucci, Cocco e Marras davanti. Dall'altra parte la Cremonese di Mandorlini, Radunovic, Mogos, Terranova, Dos Santos è migliore, Arini, Castagnette e Croce, Carretta, Montalto e Castrovilli. Poi faremo, ovviamente, anche sui nostri quotidiani, quelli abruzzesi, se è confermata la formazione di Gazzetta. Oggi c'è anche Salernitana Palermo alle ore 18 e Venezia Spez sempre alle ore 18. E per quanto riguarda la Serie B, l'Assemblea, Balata, altra conferma, tutti i club vogliono, un'una B con 19 squadre e poi questa iniziativa molto bella, il Cosenza ritira la maglia numero 8 che fu di Denis Bergamini morto nell'89, si pensò inizialmente al suicidio ma adesso le indagini sono state riaperte e in base all'autopsia il calciatore sarebbe stato ucciso. Cambiamo quotidiano, andiamo sul Corriere dello Sport, SMS di sfida. Questo è il titolo, ovviamente facendo il gioco con le iniziali di Sergei Milinkovic Savic, messaggio forte a casa Ronaldo. Oggi c'è proprio la sfida tra questi due campioni, Ronaldo e Sergei Milinkovic Savic. Di spalla il Milan al Teatro San Carlo, Ancelotti debutta a Napoli contro il club che lo fece grande, prima da emozioni speciali, il titolo non è un sogno, nasce nello scorso anno, Gattuso ritrova il maestro e dice è una persona eccezionale. In basso le parole di un ex napoletano come Sarri, la Premier altra vita, Sarri si mette alle spalle là, sposa Londra, in Italia ogni gara è una guerra, molto meglio qui. E partita la B, Brivido Nesta, poi la Ferrari è da Pol e c'è Valentino Rossi con Dovizioso. Chiudiamo con Tutto Sport che ovviamente ha da ampio risalto alle questioni Juve, Turbo Ronaldo, ore 18 Juve Lazio allo stadio, mi svegliamo i numeri mostruosi del portoghese nel debutto con il Chievo, CR7 scatta come una Ferrari. In alto Gattuso, Tibatto, maestro Ancelotti, Cairo, Blinda, Iago Falche è un pilastro del Torino. In basso i tifosi del Genoa, 43 minuti di silenzio per le vittime, Sarri contro De Laurentiis, io gli manco, lui a me meno. Il supermotore favolare Kimi, Manon Vettel per la Formula 1, Dovizioso, detta legge, si rivede la Yamaha. Ci fermiamo qui per questa prima parte, abbiamo letto le prime pagine, adesso le previsioni del meteo, la pubblicità, poi rientriamo per vedere i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6, siamo pronti per andare a vedere all'interno i nostri quotidiani, dunque ripartiamo con il centro in primo piano, pagina 3, le scuse di Bellachioma, una leggerezza. Salvini dà lo stop al coordinatore regionale del Carroccio che ammette l'errore, ma D'Alfonso lo denuncia in procura. Il parlamentare dice che non voleva minacciare il rispetto del lavoro della magistratura, invece il senatore Dem, il reato per cui presenterò denuncia e minaccia il corpo giudiziario. Le reazioni contro, dopo l'associazione dei magistrati, sono intervenuti. Rete Abruzzo, MDP, PD, PAP e ANP. Il precedente con due post ha creato veri casi nazionali. Questo è quello del 10 agosto, quando Bellachioma annunciò che la Lega avrebbe corso da sola le prossime elezioni regionali. E questo invece è il post incriminato più recente, in cui aveva detto se toccate il capitano vi veniamo a prendere sotto casa, occhio, post di giovedì scorso. Ma a proposito di elezioni regionali, Pagano ribadisce il super patto, il coordinatore di Forza Italia. Abbiamo intenzione di andare alle elezioni con la Lega, rinsaldando l'unità del centro-destra. E allora, proprio a questo proposito, andiamole ad ascoltare le parole del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. Pagano, tornata la pace con la Lega? Per quanto ci riguarda non abbiamo mai litigato, apparentemente. Noi abbiamo tutta l'intenzione di stare insieme alla Lega, di collaborare con loro, di condividere i programmi, di vincere le prossime elezioni locali, regionali. È una squadra che funziona da molti anni al nord e pensiamo che possa funzionare altrettanto bene nel centro-sud. Il coordinatore regionale della Lega, Bella Chioma, qualche settimana fa aveva detto che la Lega correrà da sola in Abruzzo per le amministrative. Poi, negli ultimi giorni, è stato un po' corretto il tiro. Probabilmente si va verso una nuova reunione del centro-destra. Sì, a me è fatto molto piacere sentire le successive interviste nelle quali il mio collega Bella Chioma si è dimostrato invece molto collaborativo e pensa che mi pare di poter percepire che le cose stiano mutando favorevolmente per una coesione all'interno di tutta l'area del centro-destra, compresi di altri soggetti politici, che è giusto non dimenticare, come Fratelli d'Italia, l'Udc e poi le tante liste civiche che ruotano intorno al nostro mondo che sono composte da persone che possono essere molto utili per le prossime battaglie elettorali. Il nodo resta quello della scelta del candidato. Sarà un candidato di Forza Italia o della Lega il candidato del centro-destra? Sarà un candidato che sta bene a tutti noi, alla Lega, a Forza Italia, all'Udc, a Fratelli d'Italia e anche alle liste civiche. Dobbiamo trovare condivisione su una figura che non necessariamente deve essere dell'uno o dell'altro partito. Vediamo, cercheremo di fare uno sforzo comune, è importante però parlare anche di una piattaforma programmatica, di cose da fare. Penso che gli abruzzesi guardino non solo agli uomini, sicuramente anche a quelli, gli uomini o le donne, ma certamente anche alle cose da fare, le cose che noi vogliamo fare. Penso che in questo momento loro non abbiano ancora una classe dirigente formata, perché sono una formazione politica che è cresciuta rapidamente negli ultimi mesi ed è normale che stiano cercando personale politico. E allora andiamo avanti, cambiando argomento, rimaniamo sul centro, la pagina Abruzzo del quotidiano. Ecco il pilastro più mal ridotto della 24, le foto shock scattate da Sergi. Nuovo senso civico va in procura, strada dei parchi, ribatte, fatto tutto il possibile, ovviamente l'effetto Genova che si ripercuote sull'Abruzzo e queste sono le foto di cui parlavamo prima, il pilastro, i pilasti che sostengono il viadotto di Assergi sull'autostrada A24, guardate questi, ovviamente sono veramente mal ridotti. Questa è una foto scattata, come vedete ultimamente, il 21 di agosto, dunque qualche giorno fa, scendiamo in basso e rimaniamo sull'argomento, il forum H2O incara la dose e chiarezza su manutenzione e termini della concessione in foto Augusto De Santis. Ma l'argomento sicurezza della viabilità lo ritroviamo anche sul messaggero, nella pagina Abruzzo, autostrade A24 e A25 abbiamo investito più di quanto richiesto, timori dopo Genova, holding di Toto, 11 milioni di interventi non concordati col MIT, ma l'associazione Nuovo senso civico presenta altri esposti sulla sicurezza. In basso invece si cambia argomento, premio Silone, riconoscimento a Maria Nicolai Painter, la professoressa della Hunter University di New York, ha scritto un'opera sullo scrittore, Marcel Fleishman. Andiamo avanti, apriamo la pagina legata a Pescara, case per gli studenti, l'affitto è low cost, da 230 fino a un massimo di 650 nella zona dell'Ateneo, la consulente immobiliare, prezzi ancora bassi per la crisi, le agenzie e tante richieste di informazioni, pochi contratti, i ragazzi ora si spostano in centro a tratti dalla Movida. Un consiglio straordinario su geriatria, un reparto al collasso, la richiesta di pignoli e scurti, bisogna intervenire sul funzionamento del pronto soccorso. E poi Lungomare Sud via i lavori con il marmo del Tribunale. Sempre a Pescara la riviera disseminata di incompiute, la recessione edilizia colpisce gli investimenti vista mare, ora molti cantieri rischiano di trasformarsi nei comostri, la causa degli stop alle costruzioni sono gli alti canoni richiesti al Comune per i cambi di destinazione d'uso. Sempre a Pescara il caso Penelope a mare di Pietrantonio e Padovano, chiusura inaccettabile. A Montesilvano sul portale di San Michele sei capolavori in bronzo. E poi i creativi del wedding, il sì è più bello se si dice in Abruzzo. Il business dei matrimoni, un'agenzia pescarese pensa a tutto. Miglior location, i parchi, la costa dei Trabocchi, come da ritorto, e fara San Martino, che sono posti veramente stupendi e evidentemente anche per il giorno in cui si convola a nozze. Prima di andare all'Aquila, apriamo anche sul centro la pagina di Pescara. La procura riapre le mense scolastiche di sequestrati locali e centri cottura. Ora parte la trattativa con l'azienda che sostituirà la ditta estromessa dal Comune. Ovviamente si torna sul caso dei bimbi finiti in ospedale. L'assessore Cuzzi stiamo facendo di tutto per far ripartire il servizio i primi giorni di ottobre. in basso, carenze e inadempimenti in quel servizio. Ecco le contestazioni avanzate dal Comune di Pescara per procedere alla risoluzione del contratto con la CIRFOOD. L'opera dimenticata in Piazza Primo Maggio torna alla Porta del Mare. Il Comitato del Paesaggio raccoglie 220 firme per rivestinare la vecchia scultura. Restituiamo alla città la sua icona smantellata nel 93 dopo una sola estate. Il nuovo progetto a centropagina per Borgomarino. Il maestro realizzerà anche un lavoro a Piazza Caduti del Mare. Gli è stato affidato dal Comune. A proposito di opere in basso, Pescara aspetta ancora il nuovo calice di Toyo Ito. Lido Penelope resta chiuso. Sib, sanzione eccessiva, associazione ai balneatori della Conf Commercio, prende posizione sullo stop per sette giorni alle attività del locale notturno. Ora si attende la decisione del TAR. Per riserva d'Annunziana ha rinviato l'esame del piano naturalistico. E poi i pescaresi in vacanza a Grecia, Spagna e Croazia. Ecco le mete più desiderate. Le agenzie dicono che il mercato del turismo non conosce crisi in Italia, Sicilia, Sardegna e Puglia. Ma c'è anche chi parte per il Giappone. Questi costi delle mete più frequentate. E aumentano anche i viaggi per Est Europa e Malta. La saga con le nuove rotte. Lo scalo è al secondo posto in Italia, tra quelli sotto il milione di passeggeri. A Pescara musica e piatti tipici per la fine dell'estate. Dopo il successo del concerto di Frankie and Cantina Band, del Comune prepara un'altra festa per giovedì prossimo, proprio a chiusura dell'estate. Siamo a Montesilvano, la materna di Via Vestina. Scuola chiusa per lavori, traslocano 200 bambini. Gli alunni della Fonte Dolmo saranno ospitati in Via Verrotti fino al 31 gennaio. Il Comune predispone un servizio navetta tra Villa Carmine e Santa Filomena. Fondazione a difesa dei più piccoli, oggi sulle spiagge, la carovana del cuore. In basso, scontro tra auto, due donne ferite. L'incidente sempre a Montesilvano, all'incrocio tra Via Adige e Via Tronto, sul posto Vigili e Croce Rossa. E poi una medusa gigante trovata sulla riva. Dimensioni di un secchiello di plastica, come vedete nella foto. Andiamo avanti, a Città Sant'Angelo, cessione dell'Iper. Per la CISL dice, salvi i posti di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro come condizione per evitare i licenziamenti. Ma la CGL non ci sta, la cessione a Conad toglie certezze e serve un confronto. Dall'altra parte, Lega aderiscono Orlando, Veri, Di Domenico e Crivelli. Siamo a Francavilla, scuola e la prima campanella suonerà il 3 settembre. Entreranno per primi in classe i bambini dell'asilo comunale. Quest'anno ogni famiglia spenderà in media 400 euro per libri e quaderni. A San Giovanni, Tiatino, comune, lavori per 54 mila euro nelle scuole. Sempre a Francavilla, Palazzo Sirena, altre modifiche in arrivo. Il sindaco Luciani annuncia interventi per la piazza, altri interventi, ma c'è ancora l'impalcatura da togliere. Rigopiano torna alla normalità, nelle baite arrivano i turisti, resistono tra mille difficoltà le uniche due attività. Rimaste aperte dopo la tragedia dell'hotel, il titolare di Mercurio ce la stiamo mettendo tutta per non far morire la nostra montagna. Letto Manopello, raccolta di medicinali per il popolo del Venezuela. A Bolognano, l'ufficio postale chiuso da due settimane e i cittadini della frazione Musellaro siamo abbandonati. Diteci quando riaprirà. Peraltro, a proposito dell'area Vestina, ieri sera c'è stata la terza edizione del premio dedicato al collega scomparso qualche anno fa, Antonio Recanati, proprio a Loreto Aprutino, collega di Vestina News, collega di TV6. Premio che è stato un grande successo, vediamo anche il nostro Stefano Recanati sul palco, insieme al Presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta. Ecco un altro volto noto della nostra emittente, ovvero Enrico Rocchi. Come detto, premi anche per dei colleghi come Enrico Giancristofaro di Telemax, per Luciano Di Tizio e non solo, in giuria il nostro Enrico Rocchi, anche il nostro Paolo Renzetti. E' stata una bella serata, soprattutto un premio giornalistico che di anno in anno continua a crescere nei numeri e nell'importanza, ovviamente ricordando la figura di Antonio Recanati. Davvero dei momenti anche di commozione per un collega che ci ha lasciato troppo presto ma che amava davvero questo lavoro. Peraltro poi la serata è andata avanti con la manifestazione collegata, ovvero sbicchierando nel borgo sempre a Loreto Aprutino. Anche qui davvero una bella serata, un grande successo, soprattutto per le presenze. Complimenti ovviamente agli organizzatori. Andiamo avanti adesso, rimaniamo sul centro a Chieti. I tesori sotto San Giustino, nuova piazza, mosaico romano a vista. Annuncio di di primio, reperti sotterranei non bloccheranno i lavori. Li metteremo in mostra con il rifacimento del centro. E questo è l'antico mosaico ancora ricoperto in una ricostruzione. In basso a San Vito, vietati piatti e bicchieri di plastica. Il Comune adotta la linea dura delle isole Tremiti. Rivoluzione per i locali, stop all'uso anche nelle case, ovviamente per evitare che si diffondano e inquinino. A vasto, inchiesta sulle violenze di gruppo. Gli amici del branco saranno interrogati, i carabinieri pronti a convocare come testimoni i compagni di scuola dei minorenni arrestati. I ladri a centropagina gli rubano la bici, taglia di 500 euro. Furto a vasto, il male vivente ripreso da una telecamera. Il proprietario offre una ghiotta ricompensa. E poi in basso i cinghiali arrivano al parco giochi, allarme a Castiglione Messer Marino. Un branco vaga indisturbato in centro. A Teramo, Montorio, aperto in centro il primo cantiere del sisma 2009. Questo per la ricostruzione lumaca, molto lenta, aggregato con esito B, cui vivevano 10 famiglie. Sarà ristrutturato con 337 mila euro. Nel Comune devono partire 70 interventi simili. Una sfollata di 87 anni dice ora di tornare a casa. USR è fermo, bisogna farsi sentire. Fracassa invita il sindaco D'Alberto a pungolare di più la regione. In basso, in centinaia, alla cena evento a Pineto per sostenere Amatrice. Il giallo di Tortoreto. Giulia ha chiesto la seconda archiviazione. La procura chiude le indagini bis con la certezza del suicidio. L'avvocato dei genitori dice faremo ancora opposizione. A Giulianova invece patteggiano i fratelli tifosi per la rissa al porto durante l'Apery Street. Asle, l'ex manager Varrassi, aveva diritto di usare l'autoblue, la soluzione della corte d'appello. In basso, Giulianova stop alle passeggiate in costume. Ordinanza, multe fino a 500 euro. Per chi sarà sorpreso in bichino a torso nudo lontano dalla spiaggia. Nuova rotonda a Silvi e i vigili. E meglio, il semaforo anticode. In alto, la giunta di Pineto. Tanti interventi per Mutignano. Ad altri appello del sindaco. Nasce un comitato spontaneo per spostare il deposito dei bus. In basso, Autoporto Roseto. Lettera alle aziende, il sindaco, le imprese che hanno manifestato interesse. Rifate la domanda. Dall'Aquila, i soldi non ci ridaranno nostro figlio. Crollo, casa dello studente, sentenza pilota. Parlano i genitori di Michelone che avranno il risarcimento della regione. Centofanti, ma il dolore ovviamente non si cancella. Amatrice, l'Aquila con il lutto. Bandiera listata di nero nell'anniversario del sisma. Di Maio, via la De Micheli. In basso, migliaia in piazza per Ted Gesù. L'Aquila, la perdonanza. Grande successo del musical. Jesus Christ Superstar. A pagina 39, gli effetti del nubifraggio. Sempre all'Aquila. Università crolla un controsoffitto. Piove nella sede di Coppito II. Arroio, cabina elettrica in tilt. L'Ateneo chiude gli uffici. Aeraldi dice, ecco perché la città si allaga. In basso, per la cronaca, ragazza morta, probabile incidente. L'autopsia conferma ferite mortali compatibili con i vetri rotti del balcone. E poi a Tagliacozzo, trentenne sfregiato al volto. Sospetti su quattro giovani. Qui siamo allo sport. E allora, prima di arrivarci, torniamo sul messaggero. Ripartiamo proprio dall'Aquila, visto che abbiamo già letto le pagine di Pescara e non solo. Strade, supermarket e terminal sotto l'acqua. Nuovi allagamenti e blocchi del traffico in molte zone. Turde forse dei vigili del fuoco. Per ripristino delle vie nel centro storico sono nuovamente saltati i tombini delle fogne. Aeraldi, presidente della Gran Sasso, mancano i soldi per la pulizia. Collisioni tra nubi. Domenica per il meteo, prime nevicate. In basso, il dramma di Arischia. Valentina, nessun segno di violenza. La donna ritrovata morta dal fratello. L'autopsia esclude l'ipotesi di omicidio. Accertamenti sui tabulati. La 724esima perdonanza è la notte di Cocciante. La città sta rifiorendo, dice l'artista. Stasera il recital del cantautore. Prenotazione esaurita in 45 minuti. Ho imparato ad amare l'Italia. Quando ho visto, dice Cocciante, rocca di mezzo. Poi, ovviamente, ci sono gli appuntamenti. Il re di Jesus Christ Superstar vorrei parlare con Celestino Quinto. L'attore Ted Neely avrei voluto conoscerlo per confrontarmi sui temi del perdono. Il parcheggio è vietato ai disabili. Caos all'ospedale e siamo ad Avezzano. I posti riservati agli invalidi occupati. Ogni giorno da qualche mezzo non autorizzato. Ecco le foto. Il comune, l'area di competenza Asl, un budello senza uscita. Segnalate difficoltà anche per il passaggio delle ambulanze a Tagliacozzo. Preso a bottigliate identificati gli assalitori. Assulmona, vertice di maggioranza, ancora un nulla di fatto. A Chieti, così il mosaico romano tornerà visibile in piazza San Giustino. Il sindaco, una pavimentazione in vetro per riportare alla luce la preziosa opera. Durante gli scavi archeologici emerge anche una cisterna risalente a fine 800. E qui riproposto questo mosaico come dovrebbe essere. Di spalla, in scena la sinfonica e la Poo Tribute Band. E poi in basso, testa in via spaventa, non c'è sicurezza. Urge una nuova sede. Il magistrato denuncia la difficile situazione degli uffici della Procura. Voragine nel corso a Lanciano. Test degli speleologi. L'ispezione dopo il movimento franoso sotto i negozi chiusi. Parti rotte per vetustà e nubi fragili. Ma la condotta idrica tiene. Droni, scanner 3D, radar, geotermia. Poi l'esperienza dei tecnici per diagnosticare il sottosuolo del centro. La settimana medievale. Tensione dei quattro quartieri storici per rituffarsi nel glorioso passato. Andiamo a Teramo. Riapertura della Pinacoteca per rivoluzionare la cultura. Stretta collaborazione con la fondazione per il lancio programmato di tutta la città. I muettari, comuni in crisi per i tributi. E poi in basso, in Val Vibrata. Minorenne ruppe il naso a coetaneo per gelosia. Per gli sfollati. Ok al contributo di autonoma sistemazione. Questa è la vertenza. Niente bichini in strada. Siamo a Giulianova. Multe da 500 euro. Vietato a girare in costume da bagno. Torso Nudo in città. Cameli triste dove ricorrere a un provvedimento per imporre le regole elementari di rispetto verso gli altri. Rissa alla periporto con i teramani condannati. Gli ultra giallorossi. Sempre a Giulianova la tassa di soggiorno discrimina e pesa sulle scelte delle strutture. Siamo allo sport e allora prima di arrivarci vediamo alcune notizie che vengono proprio dal giornale La città della provincia di Teramo. Il post di Francia avrà ripercussione in consiglio. Nel PD c'è chi chiede una presa di distanza al sindaco d'Alberto e minaccia un dispetto sul numero legale. E poi l'intervista da capitale della cultura a cultura come capitale. L'assessore comune di Teramo Gigi Ponziani illustra le nuove linee programmatiche dell'amministrazione d'Alberto. Lunga intervista. Sfollati. In arrivo il pagamento del contributo. Mistichelli uffici a lavoro anche in pieno agosto per i 922 mandati relativi ai mesi di maggio e giugno. In provincia tassa di soggiorno. Disastro programmatico. Assoturismo chiede politiche univuche alla costa teramana. E qui vediamo la spiaggia di Martinsicuro. I reali effetti sui flussi si vedranno il prossimo anno. Partiamo adesso con lo sport. Pescara da oggi si fa sul serio. Pillon voglio vedere il furore negli occhi contro un avversario costruito per vincere la B. Alle 18 in campo allo Zini di Cremona. Confermato il 4 di 3. Il tecnico dice non faccio proclami. Tra poco lo ascolteremo. Sorpresa Marras. Sanzovini passa al Modena. E allora a proposito di questo andiamo ad ascoltare le parole del tecnico biancazzurro. Bevi Pillon. Abbiamo lavorato per essere pronti per questa partita. Per l'inizio del campionato e siamo pronti per questo inizio del campionato. Nel senso che sia fisicamente che tatticamente che mentalmente siamo pronti a questa partita. Perciò tutto il lavoro è stato svolto in funzione di questo. Non abbiamo guardato prima certe cose. I carichi sono stati fatti forti in quel periodo lì. Adesso siamo pronti per... Li abbiamo un po' abbassati i carichi e siamo più brillanti. Perciò la squadra è pronta per... Sia fisicamente che mentalmente. Io credo che solo il campo dirà quello che potremmo essere. Solo attraverso le prestazioni, attraverso il lavoro, attraverso i risultati soprattutto. Quando si parte così è sempre difficile dire dove si può arrivare, cosa si può fare. Perché il campionato è molto difficile. Fra l'altro è ridotto anche le 19 squadre e a mio avviso è ancora più difficile. Perciò è difficile dire dove potremo arrivare. Una cosa è certa. Quello che ho sempre detto. In tutti i campi, in casa, fuori casa, dove andremo ce la giocheremo con tutti. No, no, è una squadra che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni. Perché basta guardare i nomi. Tutti esperienza. Grande esperienza di squadra. Sanno quello che vogliono sul campo. Conoscono perfettamente la categoria. L'allenatore conosce benissimo la categoria. È molto di esperienza. È molto bravo, fra l'altro. Perciò è una squadra costruita per vincere. Anche loro magari non dicono niente. Ma se tu guardi quello che hanno fatto. Dici, questa squadra è stata costruita per vincere. Poi da qui a vincere ne passa. Come noi diciamo, vediamo cosa succede. Anche loro penso vorranno vedere le verifiche sul campo. Io sono soddisfatto del mercato, l'ho detto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo dato delle linee. Le abbiamo percorse giuste. Abbiamo su ogni ruolo delle alternative. Perciò io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. E mi fido molto di loro. Che saremo la mina vagante? Sì, mi romperemo le balle a tutti. Questo è poco, ma è sicuro. Che morderemo tutti? Questo è sicuro, perché se no li aspetto qua. Sì, che quello è sicuro. Poi, le partite si possono vincere, perdere. Gli episodi ti fanno cambiare una partita. Però l'atteggiamento deve essere quello. Devi avere il furore addosso. Non si va in nessun posto se non sei così. Non si va in nessun posto. Gli occhi dell'attività. Sì, non volevo dirlo, ma se devi avere quegli occhi là, sì. E allora le parole di Beppi Pillone. Allora, vedete alle mie spalle. Torniamo sul centro. Esordio a Cremona. Pescara, sorpresa della Bima. Voglio, gente affamata. Pillone carica il Delfino. Noi, mina vagante del torneo. Soddisfatto dal mercato. E nella vignetta, ovviamente, Pillone e Mandorline, che cerchiano di arrivare prima possibile al traguardo. Speriamo che ce la faccia, ovviamente, prima Pillone. Lo Zini, ore 18, il debutto di Biancazzurri. Cocco titolare nel tridente con Marras. E Antonucci in difesa per rotta e Graviglione. Mandorlini dice Mi aspetto un Pescara agguerrito. Il tecnico della Cremonese. Siamo al 60-70% e non mi fido dei pronosti cestivi. Biancazzurri sono una squadra collaudata e hanno un allenatore esperto. E allora vediamo quelle che potrebbero essere le formazioni. Anche qui, Fiorillo tra i pali. Pescara con Balzano e Ciofani sugli esterni. Graviglione per rotta a coppia centrale. Brugman play con Memusciai e Macin Mezziali. Cocco titolare con Marras e Antonucci. Sulle fasce per quanto riguarda la Cremonese. Un 4-1-4-1 con Castagnetti e Montalto. Castagnetti davanti alla difesa, Montalto. Riferimento avanzato. Vedremo se sarà così. In Serie C, Teramo, ipotesi, scambio tra Maddio e Cianci. e Cincilla. Il centrocampista potrebbe andare a Renate. Il portiere in bianco-rosso resta in ballo. La pista d'Urso della Roma. Ritorno di fiamma per Fiordaliso. Lima ha questa buona e dimentica il passato. E pensa alla Champions. Andiamo sul messaggero. con sempre la Serie C, Teramo, che scambio a Maddio per Cincilla. Chiusura del mercato di Cislitta alle 20 e il 31 agosto. Il DS Federico ora punta sul numero 1 del Renate. Di spalla calcio di Lettanti. L'Aquila spera dopo il vertice con Fabricini. Il presidente della Federcalcio apre all'ipotesi eccellenza. In basso, Vastese, oggi esame in famiglia all'Aragona. Alle 19, festa bianco-rossa alla Marina. Avezzano, che intensità contro il diavolo. Iacovitti, buon test. L'obiettivo è la Serie C. Con questa notizia noi chiudiamo questa edizione di Mattino 6. Io vi ricordo che a partire dalle 17.30 noi saremo in diretta con Diretta Stadio. Collegamenti con lo Stadio Zini di Cremona dove oggi debutta il Pescara per la prima giornata di Serie B. Ovviamente in studio ci sarà Andrea Costantini con gli ospiti. A Cremona il nostro Paolo Renzetti che ci racconterà il pre e la gara e il post-gara. Tutto, ovviamente, rigorosamente in diretta. Vi ricordo anche la prima edizione del nostro telegiornale a partire dalle 14 con le principali notizie dalla nostra regione. Edizioni poi alle 19 e alle 23. Mattino 6 invece tornerà a farvi compagnia lunedì sempre alle ore 8. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon weekend. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione